Il rituale inizia con la vestizione, che rappresenta la metamorfosi degli uomini, i mammutones e i socadores. È un momento di intensa solennità. Le varie fasi sono seguite con scrupolo in un clima di mistero e suggestioni di tempi passati. Il culmine della vestizione avviene nel momento in cui i mammutones e gli socadores indossano la maschera, rispettivamente denominata Savisera e Savisere Santo. È a questo punto che i componenti perdono identità e parola e si trasformano in esseri misteriosi. Grazie. 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 Grazie.